Nell'ultimo studio abbiamo iniziato a considerare Tito II da XI a XIV. Abbiamo visto che noi che siamo salvati abbiamo ricevuto la grazia salvifica. Ricordate che c'è la grazia comune che arriva a tutti in misure diverse, ma in tutto il mondo c'è sole, c'è pioggia, c'è bellezza, ci sono problemi perché il mondo è sotto peccato, ma c'è bellezza in tutto il mondo, c'è famiglia. In tutto il mondo i genitori si rallegrano quando nasce un bambino, normalmente dovrebbero. In tutto il mondo ci sono albe meravigliose questa settimana, ci sono tramonti, ci sono fiori. Questa è la grazia comune, ma finirà, finirà, finirà. C'è invece la grazia salvifica, la grazia per coloro che Dio salva, che è tutta un'altra cosa, perché va avanti per tutta l'eternità. Questa grazia non solo ci salva dai nostri peccati e dall'ira, ma ci insegna, ci alleva. Non è solo insegnare come in un'aula, no, la parola è quella che i genitori allevate, i vostri figli. Questo trasmettere a loro con parole, con disciplina, con esempi, con pratica, allevate. Insegnate e poi abbiamo visto in quell'insegnamento, ci insegna la grazia salvifica a rinunziare a due cose e poi a raggiungere cose. Voglio leggere Tito 2, 11 e 12. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Quando Dio ci comanda a togliere qualcosa, non so se sapete, ma questo è buono anche per noi che siamo genitori, ci comanda a togliere e sempre a sostituire. Dio non lascia mai un vuoto, non dice non puoi fare quello e puoi stare lì con niente da fare. No, non fate quello, ma fate questo. Questo è un principio che vediamo dappertutto nella Bibbia, è importantissimo per noi stessi. Uno che vuole superare un peccato, tu vuoi superare un peccato nella tua vita, non puoi solo togliere il male e lasciare il vuoto, no, devi riempire il vuoto con i beni. Allora, abbiamo visto nell'ultimo insegnamento le cose da togliere e poi ci insegna cosa aggiungere. Quindi abbiamo detto di togliere l'impietà e le mondane concupiscenze. Vorrei andare avanti stasera e guardare che cosa aggiungere. Allora, rilego il brano e notiamo quello che dobbiamo aggiungere, come vivere. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia di Dio ci insegna a vivere nella presente età sobriamente, giustamente e piamente aspettando l'arrivo di Cristo. Allora, cosa vuol dire vivere sobriamente, giustamente e piamente? Le tre parole sono come in Galati 6 il frutto dello spirito è diviso in tre gruppi quello che riguarda la persona stessa quello che riguarda i suoi rapporti con gli altri e quello che riguarda i suoi rapporti con Dio e queste parole sono quelle sobriamente riguarda come ci comportiamo con noi stessi, se posso dirlo, vedremo il termine giustamente riguarda come ci comportiamo con gli altri e piamente riguarda il nostro rapporto e atteggiamento con Dio viviamo sobriamente, iniziamo lì a volte può essere tradotto moderatamente è una parola che vuol dire letteralmente con mente sana sobriamente, discretamente pensando con attenzione e cura ho parlato oggi con uno che parlava di giovani e non sono più un giovane ma stavo pensando questo l'altro giorno anch'io a spesso giovani questo qui diceva quando ero ragazzo giovane, un giovane uomo 18-20 anni diceva andavo a sciare sulla neve e diceva ah ma non posso succedere nulla a me no? c'è questo senso ma non succederà a me quello non è vivere sobriamente no? vado senza pensarci spenserato ma cosa vuoi che succeda in questo senso non possono succedere le cose vuol dire vivere con autocontrollo in ogni aspetto della vita vuol dire che non permette nessun desiderio di solo uscire o sfogarsi senza valutare se è buono o no questo potrebbe parlare di evitare concupiscenza potrebbe evitare lamentarsi potrebbe autocontrollo su scatti di rabbia o scatti di scoraggiamento perché non guarda Dio è attento con quello che ha nella testa è il contrario di essere impulsivo impulsività non è sobriamente quello ti serve no, no, non mi serve aspetta, hai pensato? hai pensato se ti potrebbe servire? cioè solo di fare senza pensare no, no penso a tutto attentamente prima di buttarmi e come dico il contrario di essere impulsivo vuol dire anche di non credere subito a quello che si sente uno viene dicendo ma sai che tizio ha fatto questo? ha davvero fatto questo? no, quello non è sobriamente perché aspetta hai le chiare prove che tizio ha fatto quello? la persona potrebbe esagerare o forse la persona ha sentito da una fonte non attendibile o è stato girato quindi non credi subito la cosa ma allo stesso tempo vuol dire non scartare subito sai, noi potremmo fare eh no, no, no quello non funzionerebbe mai ma ascoltami è quello che ti viene in testa ma hai valutato con occhi di fede forse se è da Dio forse potrebbe no, no, io non riesco a fare quello ma aspetta hai pregato? signore questo potrebbe essere da te perché se sì avrei bisogno proprio del tuo aiuto ma non scarto forse è da te mostrami sobriamente non scarto un'opportunità di dare amore di curare di dare un appoggio ma no, no, no non ho tempo ma aspetta un attimo hai solo hai scartato subito non hai valutato davanti a Dio hai visto il costo non il valore quindi essere sobrio riguarda come ti comporti ma riguarda come pensi anche una vita piena di autodisciplina in ogni campo giorno per giorno con un chiaro scopo e tu vivi con un chiaro scopo sobriamente vuol dire no, io ho bisogno di rifare quello ma sono stanco no, no mi serve signori dammi la forza per vivere sobriamente dobbiamo crescere nel pensare sobriamente seriamente di tutto dobbiamo imparare a frenare la nostra lingua e se non lo facciamo signori ho peccato ho peccato noi non camminiamo in santità perché ci frustriamo devo stare più attento no, cresciamo in santità quando confessiamo i nostri peccati la chiave non è dire devo migliorare non devo lamentarmi non devo scattare no la cura sta nel confessare i peccati così così sobriamente riconosco che quella caduta era peccato lo riconosco che non è sobrio dire oh no devo migliorare ma scusa non vedere il mio peccato come Dio vede il mio peccato non è sobrio quindi voglio vedere il mio peccato come peccato e sobriamente vedo il mio bisogno di Gesù Cristo e quando vedo il mio bisogno di Cristo amo Cristo di più vivere sobriamente quindi serve il contrario di vivere secondo la carne vuol dire non reagire ma valutare ogni parola ogni pensiero e ogni comportamento per evitare qualunque cosa che non serve sano e giusto la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere sobriamente nel mondo presente questo è fondamentale oltre a vivere sobriamente il credente è chiamato a vivere giustamente che riguarda principalmente i nostri comportamenti con gli altri di casa al di fuori lavoro vicini chiunque vivere giustamente vuol dire fra l'altro essere giusti onesti e integri con tutte le persone con cui abbiamo a che fare sino in situazioni difficili o facili questa qualità è molto rara oggi ma la grazia di Dio ci insegna a vivere proprio così perché ciò rispecchia la giustizia di Dio soprattutto dove che rispecchia la giustizia dove che si vede quante volte qualcuno di voi ha mai visto una stella di giorno io una volta ho visto probabilmente era Saturno o Venere una volta ho visto una pianeta immagino di giorno era proprio in mezzo alla giornata ma io lo vedevo appena appena però le stelle non si vedono di giorno quando si vedono le stelle di notte vedi più stelle quando c'è la luna piena o quando non c'è la luna più buio più vede le stelle più c'è ingiustizia intorno a noi più la nostra giustizia risplende quindi vivere giustamente non è solo quando gli altri vivono giustamente no è quando gli altri vivono ingiustamente questo mi dimostra la luce di Cristo questo vuol dire essere giusto e onesto per esempio in ogni rapporto vuol dire fare agli altri come tu vorresti che facessero a te anche se non lo fanno vuol dire non frodare nessuno in alcun modo vuol dire essere integro anche quando gli altri froddano vuol dire essere onesti quando loro mentiscono allora attenzione vivere giustamente in un mondo ingiusto molto probabilmente ci porterà ad essere frodati e maltrattati vi dico subito ok allora non conviene che stolto che sei che stolto che sei quello che Dio comanda conviene sempre conviene sempre se tu dici che non conviene vai edifica la tua casa da solo lascia Dio Dio dice che conviene invano si affaticano gli eredificatori se l'Eterno non edifica la casa conviene perché Dio tiene conto di tutto e Lui darà la ricompensa a coloro che vivono per Lui in giustizia cosa dice in Colossesi 3 ai servi di dare totalmente ai loro padroni perché lavorando per chi effettivamente per il Signore per il Signore non vivi giustamente perché così loro fanno per te perché spesso non lo faranno tu vivi giustamente perché ti fidi di Dio dice Signore tu mi comandi questo mi fido di te mi fido di te e tu sarai frodato maltrattato se quella è la volontà di Dio e molto spesso lo è loro ti vedono come debole e ti calpestano ben venga lascia che mi calpestano lascia che mi calpestano però quello che tu perderai non è un vero tesoro il vero tesoro è quello che riceverai pensate aggrappati a qualcosa così vuol dire aggrapparti a qualcosa che per forza perderai comunque lasciare Dio portare via se è solo volontà quello che era il tuo tesoro vuol dire che ti darà tesori che non perderai mai la Bibbia parla proprio così domanda conviene davvero camminare giustamente in un modo in cui è così normale cercare di essere il più furbo e di ottenere vantaggi per mezzo di compromessi conviene veramente conviene camminare giustamente quando il mondo va avanti per mezzo l'ingiustizia se dovessimo considerare solo la vita terrena la risposta potrebbe sembrare no non conviene ma un vero credente non vive considerando solo la vita terrena che finirà no un vero credente pensa all'eternità non pensa a quello che tutti perderanno Jim Elliot quel missionario che negli anni 50 è stato ucciso insieme a tre o quattro altri nell'Amazonia aveva scritto nel suo denario non è mica un pazzo colui che lascia andare via perde quello che non può ottenere per ottenere quello che non può perdere non è pazzo chi perde per il Signore quello che non può comunque tenere per ottenere quello che non può perdere quindi vivere giustamente è perché io mi fido di Dio mi fido di Dio Signore tu mi dici di dare il mio meglio al mio datore anche se lui frode tutti e tu ti dici ma che stupido che sei lui ci frode non lavorare bene per lui no non lavoro bene per lui lavoro bene perché per il mio Signore che mi comando a fare questo e ci pensa Dio dammi la ricompensa giusta quindi la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere giustamente in un mondo in giustizia in ogni rapporto con ogni persona per vivere giustamente tu devi decidere quale tesoro vuoi vuoi un tesoro terreno che perderai per forza o vuoi un tesoro eterno che non perderai mai vi do un esempio di una vita vissuta giustamente c'era un uomo che ha vissuto con tutti con giustizia viveva ogni suo rapporto giustamente e come fu trattato fu odiato flagellato bastonato gli sputtarono addosso e perfino fu crocefisso viveva giustamente e umanamente parlando perse tutto ma in realtà ha perso tutto ma ha ricevuto tutto perché è stato risuscitato e ha una ricompensa eterna di infinito valore e chi è salvato fa parte della sua ricompensa io voglio seguire le sue orme vogliamo essere pronti a perdere tutto per guadagnare un tesoro eterno guadagnare e per grazia ma non la salvezza quello per grazia ma la ricompensa vivere giustamente vuol dire non temere gli uomini ma temere Dio significa non vivere in base a ciò che potrei perdere o ottenere dalla terra ma vivere alla luce di un tesoro eterno che posso presentare a Gesù Cristo la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere sobrimente e a vivere giustamente tu stai vivendo giustamente nei tuoi rapporti con tutti oltre a vivere sobrimente e giustamente la grazia salvifica di Dio ci insegna anche a vivere piamente piamente che riguarda il nostro rapporto con Dio vivere piamente vuol dire vivere con reverenza verso Dio vuol dire essere sempre coscienti della presenza di Dio allora nell'ultimo studio abbiamo visto quella parola quando dice di rinunziare all'impietà impietà e questo pietà piamente infatti la stessa radice parola greca stessa radice uno è senza pietà e uno è impiamente quello e questo è il contrario di nuovo dico Dio non solo ci comanda a togliere ma ci aggiunge quello che fare vivere così va molto oltre a semplicemente evitare di peccare no non è solo quello infatti abbiamo sentito pochi giorni fa di uno che era cresciuto in una famiglia o chiesa con tante regole e purtroppo c'è una tendenza o di lasciare ognuno vivere come vuole che spesso è molto nella carne o ci sono certe chiesi o famiglie dove ci sono tante regole non devi fare questo non devi fare quello devi fare regole no no quello è togliere pia mente non è regole pia mente è vivere cosciente di Dio e voler piacere a Dio in tutto che vuol dire tu farai quello che le regole insegnano anche senza le regole quindi è tenere presente Dio in ogni pensiero in ogni decisione cercando sempre la volontà di Dio sempre a piacere a Dio anziché piacere a noi stessi vuol dire come leggiamo in Efesini 5 9 10 di esaminare tutto di esaminare tutto e capisci cosa è gradito a Dio leggo quello il frutto dello spirito consiste in tutto ciò che è bontà giustizia e verità esaminando ciò che è accettevole al Signore esaminando ciò che è accettevole Signore questo è accettevole a te questo dà piacere a te infatti vuol dire camminare con diligenza saggiamente cercando di ben capire la volontà di Dio in ogni circostanza Efesini 5 15 a 17 dice badate dunque di camminare con diligenza non da stolti ma come saggi riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi non siate perciò disavveduti ma intendete quale sia la volontà del Signore intendete vuol dire che valuti esamine la scrittura chiedi consigli da chi ne sa di più no signori quello non dovrebbe piacere a te forse non è un peccato palese ma valutando sai signori non è peccato quello ma non è eccellente io potrei usare quel tempo in quello che non è peccato ma non porta frutto invece io potrei fare quello che porta frutto allora di intendere quale sia la volontà di Dio portare molto frutto è la volontà di Dio molto chiaro Giovanni 15 fra l'altro e quindi questo è come vivere piamente un santo timore di Dio cercando di piacere a Dio in tutto cosa vuol dire che io tengo presente Dio tutto il giorno la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere piamente tu stai vivendo piamente quindi la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare a rinunziare tutto quello che è peccato impietà e concupiscenze mondane e a vivere sobriamente nel nostro modo di pensare giustamente come ci comportiamo con gli altri e piamente tenendo Dio sempre presente e mentre viviamo così ci insegna anche ad aspettare il ritorno di Cristo voglio leggere da 11 a 13 ancora di Tito 2 infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nel mondo presente sobriamente giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo la grazia di Dio ci insegna ad aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Cristo Gesù c'è molto molto qui guardiamo prima la parola aspettare cosa vuol dire la Bibbia cosa intende la Bibbia quando usa la parola aspettare è un verbo attivo ossia vuol dire avere gli occhi fissati su ciò che uno aspetta esempio la moglie che ama tanto il suo marito che è fuori dalla guerra e lei aspetta aspetta pregando che può tornare anzi che essere ucciso e questo quando non c'è comunicazione e un bel giorno lo vedi arrivando lei lo aspetta lo aspetta ci pensa tutti i giorni oppure i genitori che il figlio è stato rapito e loro sentono che è stato salvato e così loro cosa fanno loro aspettano il ritorno del loro figlio ci pensano se il figlio fosse rapito e dopo un mese la polizia dicono abbiamo trovato abbiamo fatto un sparatorio e lui è stato vivo e ve lo porteremo appena possibile andrete in giro o siete lì pensandoci ogni minuto aspettare è quel tipo di cuore è una coppia che aspetta un bambino che ci pensano tutti i giorni ma non solo una volta al giorno dalla mattina alla sera no? è qualcosa dove il cuore è fissato su quello che si aspetta questo è quello che Dio intende quando dice che la grazia salvifica di Dio ci insegna ad aspettare la beata speranza di Gesù Cristo sul ritorno in quali situazioni hai tu un cuore di aspettare? a volte aspettiamo cose terreni aspettiamo di finire quella prova aspettiamo qualche vantaggio terreno aspettiamo quello che rivela che il nostro tesoro non è celeste perché noi aspettiamo con quel cuore quello che è il nostro tesoro pensate a questo cosa ci dà quel cuore? solo quello che è il nostro tesoro quindi vuoi capire quello che è il tuo tesoro? valuta che cos'è che aspetti se io dico non vedo l'ora per questa prova di passare qual è il mio tesoro? qual è il mio tesoro? il mio tesoro è avere una vita senza quella prova non sto mirando in alto sto mirando su cose terreni prego che non sia mai un vantaggio economico o terreno allora se non ho da mangiare pregare per cibo non è avere un tesoro il Signore ho fame ho bisogno di un lavoro certamente è valido Gesù ci insegna pregate per il nostro pane quotidiano ma se sferiamo la macchina più bella o un viaggio qualcosa desiderare un certo limite ma non che desiderare un tesoro no no tesoro Gesù deve essere il nostro tesoro invece dice proprio dice di aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo tu aspetti Gesù così allora la vera risposta troppo spesso no non aspettiamo Gesù così non aspettiamo Gesù così perché Gesù spesso non è il nostro tesoro troppo spesso Gesù non è il nostro tesoro e questo è perché non abbiamo capito quanto è meraviglioso e glorioso e non abbiamo capito il suo cuore per noi e non abbiamo capito la sua misericordia e non abbiamo capito quanto è immenso e santo e maestoso e solo lui può soddisfare il nostro cuore e molto spesso sprechiamo la vita cercando tesori che non sono tesori cercando di soddisfare il cuore con quello che non soddisfarà mai il cuore e poi prima o poi ci sarà strappato via però il fatto è che se io cerco il mio tesoro là non posso cercarlo là e Gesù è là e quindi non devo cercare di là quello che posso trovare solo nella direzione apposta e quindi solo Gesù è il vero tesoro cosa dice Paolo alcune di quelle cose che mi erano di guadagno tutto quello che mi era di guadagno ho considerato una perdita per l'eccellenza di conoscere Cristo tutto 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 per riconoscere Gesù Cristo come il tesoro che è dobbiamo impegnarci a conoscerlo di più Gesù è meraviglioso glorioso amorevole potente misericordioso il problema è che spesso non stiamo guardando a Gesù e non lo vediamo per quello che è dobbiamo scegliere giorno per giorno e ora per ora di guardare a Gesù Cristo per vederlo di più ci serve il tempo nella parola non solo leggendo la mattina ma memorizzando per ripassare di giorno e anche di notte ci serve il tempo con altri credenti che vogliono anche loro più di Cristo dove non parliamo del lavoro o questo o quello parliamo di Cristo ci ricordiamo delle verità di Cristo ci serve la preghiera ci serve usare i nostri doni spirituali ci serve una vita dove diponiamo tutto quello che ci rallenta anche se non è peccato nel corso verso Cristo perché se noi viviamo così scegliamo di vivere così troveremo che il nostro cuore vuole sempre più di Cristo allora avremo quel cuore di aspettare il suo ritorno con grande gioia e desiderio quindi se tu non hai un cuore che desidera profondamente il ritorno di Cristo è perché hai bisogno di vedere più di Cristo hai bisogno di vedere più di Cristo scegli quello che ti farà vedere più di Cristo allora leggo ancora versetto 13 notate come descrive il ritorno di Cristo aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo la speranza che dobbiamo aspettare è una beata speranza ed è legata all'apparizione della gloria di Gesù Cristo la speranza che dobbiamo aspettare sarà pienamente soddisfatta con l'apparizione di Gesù Cristo e notate che sarà un'apparizione di Gesù nella sua gloria alla prima venuta Gesù ha nascosto la maggioranza della sua gloria sulla monte di trasfigurazione per poche minuto i tre apostoli hanno visto più della gloria di Cristo ma poi il velo è stato tolto invece quando Gesù ritornerà il mondo vedrà Gesù nella sua gloria ogni occhio lo vedrà se tu hai Cristo quella gloria sorriserà il tuo cuore da quel momento in avanti per tutta l'eternità poi come viene scritto Cristo qui leggo di nuovo il versetto notate come Gesù viene scritto aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo Gesù viene dichiarato qui di essere il grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo nel greco c'è un articolo davanti Dio e Salvatore ok Gesù è Dio Gesù è Dio Egli è pienamente divino in Giovanni 10 30 leggiamo io e il Padre siamo uno Giovanni dimostra la dignità di Dio moltissimo un povero povero uomo mi ha scritto poco fa gli ultimi dieci giorni mandandomi uno studio biblico che non credo che lei abbia fatto citando tanti dizionari biblici pagine 14 pagine con foto di copertine di dizionari biblici citando articoli di queste cose per mostrarmi che Gesù non è Dio allora io risposto dicendo grazie per quella lettera era ottima per mostrare la stottezza degli uomini che anziché vedere quello che dice la Bibbia cercano di provare qualcosa da tutti questi fonti umani ho detto era un'ottima lettera infatti voglio usare con certi uomini per mostrare come riconoscere argomenti campati in aria e non lo dico con disprezzo però la Bibbia dimostra che Gesù è Dio non in un versetto girato dappertutto e questo è uno di quei tanti posti aspettando l'apparizione e la gloria del grande Dio è Salvatore nostro Gesù Cristo Gesù è Dio in Isaia 43 versetto 11 leggiamo che solo l'Eterno l'Eterno il nome ebraico per Dio è il Salvatore leggo Isaia 43 11 io io sono l'Eterno all'infuori di me non c'è Salvatore io sono l'Eterno e all'infuori di me non c'è Salvatore ma Gesù è il Salvatore abbiamo appena letto aspettiamo la gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo ma l'Eterno è l'unico Salvatore perché Gesù è l'Eterno Gesù è Dio incarnato venuto per salvarci perché un uomo non poteva pagare il prezzo per tutti quelli che vengono salvati serviva Dio incarnato Dio per poter pagare il prezzo uomo per poter identificarsi con gli uomini chi ha la speranza di Gesù Cristo che Gesù è morto è risuscitato per quella persona ha una beata speranza beata speranza cosa vuol dire quello beata due motivi per chi è beata almeno due uno è certa una speranza bella che non sia vera non è beata no non è beata è certa succederà e poi vale più di qualunque altra cosa nell'universo e nell'eternità quindi è una speranza assolutamente certa ed è una speranza di infinito valore infinito valore quindi tutte le speranze legate a questo mondo sono limitate nel tempo e nel valore le speranze di questo mondo deluderanno questo perché tutto ciò in cui speriamo sulla terra sarà perso per sempre e non può mai soddisfare a fondo la nostra anima perfino attenzione le benedizioni da Dio che sono terreni non possono soddisfare l'anima il matrimonio è da Dio figli sono da Dio altre cose sono da Dio ma non possono soddisfarci sono benedizioni per farci vedere il cuore di Dio ma non prendere il posto di Cristo e chi cerca nella famiglia come esempio la cosa più bella sulla terra delle cose terreni chi cerca nella famiglia la sua gioia alla fine sarà delusa perché non sta aspettando la beata speranza perché la famiglia ci sarà strappata via e comunque la famiglia non basta la famiglia ci fa vedere il cuore di Dio ma non sostituisce Dio solo Gesù Cristo può soddisfare i nostri cuori perciò solo chi spera in Gesù Cristo con tutto il cuore non sarà deluso solo chi spera in Gesù Cristo vedrà il suo cuore pienamente e eternamente soddisfatto la beata speranza è così meravigliosa che sarà infinitamente più grande di ciò che possiamo immaginare e durerà per sempre quindi aspettiamo la beata speranza e l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo con il nostro impegno non era possibile per noi di mai ottenere quella speranza perché i nostri peccati ci separavano da Dio e non potevamo noi togliere il nostro peccato ma Dio nella sua grande misericordia ha fatto l'impossibile Gesù Cristo ha dato se stesso per provvederci quella salvezza che era impossibile per noi per provvederci quel perdono leggo 2.14 di Tito parlando di Gesù Cristo il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da un'inequità e purificare per sé un popolo speciale zellante nelle buone opere per poterci salvare dalla condanna che meritavamo per darci la biata speranza Gesù Cristo ha dato se stesso non ha dato qualche dono non ha dato un grande regalo ha dato se stesso per noi doveva pagare il prezzo più alto doveva dare se stesso totalmente e lo ha fatto dice per noi ha dato se stesso per noi oh Signore hai dato se stesso per me per i miei fratelli sorelli sì la risposta è sì ha dato se stesso per noi e poi dice anche che Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità prima della salvezza eravamo schiavi del nostro peccato schiavi della nostra iniquità ora in Cristo siamo stati liberati riscattati non siamo più schiavi Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità non siamo più schiavi non dobbiamo peccare non dobbiamo mai dire ma non sono riuscita era più forte di me non è più forte di te se tu sei in Cristo non mentire non scusare il peccato dicendo che era più forte di me no Gesù Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità non siamo più schiavi del peccato un vero credente deve e può abbandonare ogni peccato di ogni tipo attenzione una volta che Sansone si trovava a Gat non poteva resistere il peccato perché non doveva stare a Gat il suo peccato era andare là se io pecco mettermi nel posto sbagliato e non solo geografico lì ho già peccato e se non mi ravvedo di quel peccato cadrò ancora quindi non sono schiavo del peccato ma se io mi metto dove non devo essere e non mi ravvedo di essere dove non devo essere io sto camminando nel peccato cadrò ancora di più non devo ma rifiuto di ravvedermi da quel peccato che forse non è tanto visibile agli altri quindi Dio ci ha mandato Gesù Cristo per riscattarci da ogni inequità e poi ha detto ha dato se stesso anche per purificare per sé un popolo speciale purificare un popolo santo purificare un popolo che cammina in santità perché senza la santità nessuno vedrà Dio Cristo vuole un popolo dedicato interamente a Lui infatti se tu sei in Cristo tu sei stato comprato a caro prezzo non appartiene più a te stesso spesso nel mondo sentiamo la frase è la mia vita posso viverla come voglio io che menzogna che inganno non è la tua vita e non puoi vivere come vuoi tu perché senza Cristo sei schiavo del tuo peccato e se hai Cristo sei stato comprato a caro prezzo non appartiene più a noi stessi ma facciamo parte di un popolo speciale quello vuol dire un possesso di Cristo un popolo che è suo che non appartiene a loro stessi no no un popolo il suo possesso speciale vuol dire quindi non è la tua vita guai ad uno che dice di essere credente che dice è la mia vita non è la tua vita non è la tua vita se tu sei veramente in Cristo non mentite non dite è la mia vita se tu sei in Cristo non è la tua vita siamo stati comprati a caro prezzo non apparteniamo più a noi stessi signori sono tu o mi hai comprato fai di me quello che vuoi e ci dice quello che vuole in versetto 14 alla fine il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale zellante nelle buone opere ogni vero credente è stato salvato purificato redento per essere zellante nelle opere buone o nelle buone opere zellante abbiamo parlato nel passato vieni da un radice che vuol dire bollire tu metti acqua su un fuoco molto caldo e sta lì bollendo non può essere calmo e vuol dire avere una passione dentro di ardere di ardere per fare buone opere per il nostro signore quindi non è che ok cosa devo fare no è il desiderio del cuore non è seguire le regole è la mia passione questo Cristo ci ha salvati per essere zellante nelle buone opere c'è gente che è zellante nel guadagnare i soldi c'è gente che è zellante nel farsi vedere agli altri che è zellante nel praticare lo sport qualche hobby zellante per la musica zellante per la propria famiglia ma Gesù ci ha salvati affinché fossimo zellanti nelle buone opere cosa vuol dire vuol dire di avere una passione di voler fare quello allora io devo lavorare devo mangiare devo dormire non posso compiere buone opere 24 ore al giorno non sta parlando di quanti ori dai sta parlando del tuo desiderio mi ricordo quando eravamo giovani molto giovani molti anni fa all'università e avevo studiavo tempo pieno e lavoravo tante ore alla settimana oltre per pagare e mi ricordo che ho conosciuto Serena il mio programma prima di conoscere era pieno no pieno programma ho trovato ore e ore e ore alla settimana di vedere Serena perché come mai come sono riuscito pur studiando e pur lavorando perché ero zelante ero zelante a vedere Serena quindi io trovavo ore tu trovi tempo per quello per cui sei zelante tu trovi tempo e ma non ho tanto tempo tu trovi tempo non ho detto tanto tempo tu trovi tempo per quello per cui sei zelante stiamo parlando di un cuore non di ore stiamo parlando di un cuore ci pensa Dio darti le porte aperte e quando hai un cuore zelante tu apri ogni porta tu prove è aperto è aperto questo è aperto entro oh che bello essere zelante per compri buone opere alla gloria del nostro Signore che ci ha comprato a caro prezzo quindi se tu sei un vero credente non sprecare l'unica vita che hai sulla terra essendo zelante in qualunque cosa che non è eterna compiere le tue cose cura la tua famiglia lavori ma non essere zelante per quelle cose lì essere zelante di compiere buone opere per il tuo Signore allora scusate parlo genitori vuol dire che non vedo più i miei figli no una parte di compiere buone opere è di allevare i nostri figli nella disciplina l'amoramento del Signore quello fa parte delle buone opere per un marito vuol dire amare sua moglie come Cristo ama la Chiesa come esempio quindi non è che devo abbandonare tutto no devo vivere in tutto per Cristo devo vivere in tutto per Cristo fratelli e sorelle voi che siete fratelli e sorelle abbiamo ricevuto la grazia salvifica di Dio e io prego che possiamo vedere sempre più la grandezza di questa grazia è più grande di qualsiasi benedizione terrena questa grazia non solo ci salva ma ci insegna come vivere ci insegna innanzitutto a rinunziare totalmente negare all'impietà a tutto quello che è contrario alla vita di reverenza verso Dio inoltre ci insegna a rinunziare alle mondane concupiscenze tra cui c'è la concupiscenza della carne concupiscenza degli occhi e la superve della vita al prossimo di praticare vivere e pensare il male questa grazia ci insegna a vivere in questo mondo sobriamente giustamente e piamente che vuol dire autocontrollo con i pensieri con il modo di comportarmi con gli altri e di avere Dio sempre al centro questo vale per noi che abbiamo ricevuto la grazia salvifica ma per chi non ha ricevuto la grazia salvifica sappi tu che mi senti sappi che Dio offre questa grazia a tutti gli uomini la grazia salvifica di Dio può salvare il peggior peccatore come può salvare quello che il mondo considera buono ma davanti a Dio non è buono tutti ne hanno ugualmente bisogno della grazia salvifica di Dio e può salvare chiunque questa grazia può salvare te chiunque tu sia perché Gesù Cristo è il prezzo del riscatto quindi se tu non hai la grazia salvifica di Dio non andare avanti senza fermarti signore ho bisogno perché sono peccatori e Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori allora è venuto per me e se tu hai la grazia salvifica di Dio viviamo aspettando la barabbiata speranza è l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo preghiamo ti lodo ti lodo che tu hai stabilito di salvare i peccatori come noi incredibile ma questo è il tuo piano salvare uomini donne peccatori non per qualche merito loro perché noi non abbiamo meriti ma per il merito del sacrificio di Gesù Cristo Dio incarnato oh che possiamo noi vedere più di Cristo in tutta la sua gloria cioè non vedremo tutto qui ma che possiamo vedere sempre di più la gloria di Cristo il cuore di Cristo questo cuore tenero amorevole misericordioso per chi si umilia questo Cristo potente oh che possiamo vedere più di Cristo e vivere sobriamente giustamente con tutti e piamente aspettando con tutto il cuore la beata speranza che abbiamo ricevuto in Cristo e l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo grazie per questa speranza che non deluderà mai aiutaci a vedere più di Cristo ti prego nel nome di Gesù Cristo per la tua gloria Amen Amen